Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi parliamo ancora una volta di legge dell'attrazione, ovviamente lo facciamo con questa nuova rubrica. Oggi vedremo il primo punto, la prima area tematica che ho deciso di affrontare con voi e che arriva da tutte quelle che sono le domande che mi fate sempre sotto ogni video. Per cui se siete curiosi di conoscere le risposte e di sapere un pochettino qualcosa di più su come funziona la legge dell'attrazione, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A meno rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, una delle domande che mi fate più spesso su questa fantomatica legge dell'attrazione è Quanto devo visualizzare ogni giorno? Quanti obiettivi devo visualizzare ogni giorno? Mi bastano 5 minuti di visualizzazione, 10 secondi, 17 secondi? Ho fatto anche un video sui 17 secondi, li ho spiegato veramente benissimo. Tutto quello che è il campo energetico della visualizzazione, quindi andatevelo a vedere, ve lo lascio sotto linkato. Comunque, quanto devo visualizzare? Per quanto tempo devo visualizzare? Allora, come abbiamo detto nel primo video di questa rubrica, la legge dell'attrazione funziona con un'assonanza di vibrazioni della stessa energia. Quando voi emettete un'energia, tutte le energie simili che vibrano in maniera simile inizieranno a vibrare insieme all'energia che avete emesso. Per cui, se avete emesso un'energia di gioia, tutte le varie energie di gioia inizieranno a vibrare insieme. Se avete emesso un'energia di tristezza, di dolore, di rabbia, di paura, tutte le energie simili inizieranno a vibrare insieme. È facile vederne la dimostrazione nella nostra vita, perché vi sarà capitato quando, non so, quando vi innamorate, quando provate questo sentimento meraviglioso d'amore, sembra che tutto sia bello. Tutto automaticamente è diventato bello, i colleghi di lavoro sono più simpatici, i colleghi di scuola sono più simpatici, nell'interrogazione siete più brillanti e prendete il mezzo voto in più o addirittura il voto in più. Con i vostri genitori va meglio, con i vostri figli va meglio, con i vostri fratelli va meglio. Tutto sembra andare meglio, esattamente come quando siete in un periodo pessimo e non ve ne va bene una. Vi succede di tutto, succede il problema alla macchina, succede il problema al computer, succede il problema a casa, litigate con i vostri familiari, litigate con i vostri colleghi di lavoro, litigate con i vostri compagni di scuola. Vi saranno capitati questi periodi, a me sono capitati spessissimo, dei periodi in cui andava tutto bene, dei periodi in cui andava tutto male. Ok, perché? Perché in realtà le nostre vibrazioni, le vibrazioni che noi emettiamo, fanno sì di richiamare tutte quelle vibrazioni simili che ci sono intorno a noi. Ciò non vuol dire che il mondo è brutto o bello, il mondo è buono o cattivo, ma vuol dire che nel mondo, nella natura e nelle persone che ci circondano e che concretamente co-creano l'ambiente in cui viviamo, sotto ogni aspetto, ci sono energie positive e ci sono energie negative in pari quantità, ok? Noi però attraiamo quelle che vibrano in maniera simile. Quindi nel momento in cui decidiamo di utilizzare la legge della trazione per creare consapevolmente il nostro destino, ovviamente andremo consapevolmente a scegliere quale vibrazione emettere in modo tale da richiamare verso quella vibrazione tutte le vibrazioni simili. E richiamando tutte le vibrazioni simili ovviamente si apriranno tutte quelle opportunità che ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi. Sotto ogni aspetto ragazzi, sotto l'aspetto delle relazioni, sotto l'aspetto lavorativo, sotto l'aspetto scolastico, addirittura qualcuno di voi mi diceva ma anche sotto l'aspetto fisico. Sì ragazzi, anche sotto l'aspetto fisico, perché è vero che tu non ti puoi mettere lì, concentrarti e dire devo cambiare il colore dei miei occhi, devo cambiare il colore dei miei occhi, però è altrettanto vero che tu magari ti puoi mettere lì, concentrarti e capire come tu puoi scegliere di cambiare il colore dei tuoi occhi. Potresti utilizzare delle lenti a contatto, potresti decidere di fare un'operazione agli occhi, potresti decidere di non cambiarle più, perché ti sei reso conto che quello non è un vero obiettivo della tua anima, ovvero che non te ne frega niente di avere gli occhi azzurri piuttosto che marroni. Quindi in soldoni, quello che voglio dire è che la legge dell'attrazione ti aiuta davvero, uno, a capire che cosa per te è davvero importante, e lo vedremo in un altro video, e due, soprattutto ti aiuta davvero ad avvicinarti al tuo obiettivo passo dopo passo, step dopo step, in maniera facile e soprattutto a tuo modo. E qui rispondo alla vostra domanda, perché ho fatto tutta questa introduzione? Perché ovviamente non c'è un numero fisso di visualizzazioni che dobbiamo fare, non c'è un numero fisso di secondi, minuti o ore in cui dobbiamo visualizzare il nostro obiettivo. Qual è il punto focale, qual è il fulcro della visualizzazione? È quello di ricreare l'energia. E come fate a sapere se avete ricreato l'energia, se siete riusciti a ricreare l'energia? Sapete come riuscite a capirlo? Lo riuscite a capire solo se quell'energia non vi abbandona più. Quell'energia non può essere creata solo per 15 secondi di visualizzazione. Vi faccio un esempio stupidissimo, avevo un'amica che diceva No, ma io ho imparato la ricetta e l'attrazione, sì, oramai io penso e succede quello che io voglio. Poi però non succedeva quello che voleva e diceva Ma perché io mi concentro tantissimo, provo tutta la gratitudine, provo tutta l'abbondanza, provo tutta la gioia, ma poi non succede? Perché tu provi quella gioia lì immensa in quei 5 nanosecondi. E poi però non fai nient'altro che lamentarti tutto il giorno, arrabbiarti con i tuoi genitori tutto il giorno, litigare con tuo marito tutto il giorno, appena sei 10 minuti nel traffico inizia a urlare contro le macchine. Capite bene che quell'emozione ha quell'esploat e poi cade. Se pensiamo alla nostra vita così non arriveremo mai a dare un messaggio chiaro all'universo, non andremo mai a dare un messaggio pulito all'universo e quindi non faremo in tempo a richiamare quel tipo di energia che poi subito dopo andiamo a litigare col marito, con i genitori, con i colleghi eccetera eccetera e richiamiamo un altro tipo di energia che è anche più forte perché è più continuato. Quindi nel momento in cui voi andate a fare una visualizzazione e riuscite ad entrare proprio nel momento presente, a richiamare tutte le energie di gratitudine come se voi aveste già quello che volevate, se quella cosa lì non dura nella vostra vita, ciao obiettivo, quella cosa lì deve essere talmente tanto vera per voi, talmente tanto importante per voi, talmente tanto nella vostra anima, la vostra anima deve essere talmente tanto pregna di quel desiderio che non vi deve mai mollare. Il pensiero di quel desiderio, ma non il pensiero ci penso, ma il pensiero consapevole, il pensiero emozionale di quel desiderio non vi può mollare due minuti dopo, anche se non state più visualizzando, ma l'energia deve essere quella. Vi faccio un esempio, mi è capitato di parlare tante volte con delle persone che volessero cambiare lavoro e gli chiedevo, ma se tu avessi già cambiato lavoro e stessi facendo il lavoro che tu vuoi, saresti così nervosa nel traffico? Ah no beh, chi se ne frega del traffico? Saresti così nervosa in famiglia? Eh no, non avrai tutti questi problemi. Allora tu inizia a togliere quel nervoso e a non portarti i problemi in famiglia, inizia ad essere gioiosa, inizia ad essere sempre costantemente armonizzata su quell'energia e vedrai che quella cosa lì arriva, arriva perché inizia a vibrare così, perché quella è la tua vibrazione per cui ti richiamerà tutte quelle occasioni di cambiare lavoro o magari di cambiare posizione, perché, e questa è proprio un'esperienza che vi racconto appunto di una mia amica, di questa amica qua, quando ha iniziato a fare così, non ha cambiato posto di lavoro, ma le hanno cambiato posizione, nel senso che l'hanno spostata a un altro dipartimento e lei vive da Dio. Lei dice, cacchio, è stata una cosa magica, perché io pensavo di dover affrontare nuovi colloqui di lavoro e chi mi prende alla mia età e non ho il curriculum giusto e che tipo di lavoro poi mi faranno fare, dovrò ricominciare tutto da capo, e invece semplicemente continuando a vibrare in uno stato di gioia, come se lei ce l'avesse già avuto quel cambiamento nella sua vita, il caposettore, capostruttura, che appunto era il suo, non era il diretto superiore, ma era il superiore del superiore, ha deciso di promuoverla e metterla in un altro settore, cioè di farle fare un passaggio di carriera e lei adesso, lei diceva, io pensavo di dover proprio cambiare azienda, e invece no, è successa questa cosa e mi sono ritrovata esattamente la vita meravigliosa che avevo sempre sognato. Quindi ragazzi, il focalizzarsi, le visualizzazioni non hanno un numero fisso, la visualizzazione tra l'altro, ma lo vedremo negli altri video, non è che dovete farla solo quando siete nella stanza buia, a gambe incrociate, dicendo om e con gli occhi chiusi e con la tuta, la visualizzazione deve essere una costante della vostra vita, quando avete un desiderio mi viene difficile pensare che voi non ci pensiate costantemente, chi desidera sposarsi ha costantemente il focus sul suo matrimonio, chi desidera una storia d'amore ha costantemente il focus sul suo desiderio della storia d'amore, chi desidera un figlio ha costantemente un pensiero che desidera un figlio, chi desidera una casa nuova ha costantemente il pensiero che desidera una casa nuova, quando desiderate cambiare auto la vedete praticamente ovunque, iniziate a vedere l'auto che volete ovunque, nelle pubblicità, sui giornali, su internet, ma lasciamo stare internet che è condizionato, ma la vedete più strada, nel momento in cui vi piace una cosa e quella cosa la volete, iniziate a vederla praticamente ovunque, perché? Perché la vostra energia è focalizzata su quella cosa e la riconosce ovunque, quindi quando voi focalizzate la vostra energia e magari fate la visualizzazione che vi dura i vostri 5 minuti, 17 secondi, 1 ora e mezza, quanto volete voi, quando uscite dalla visualizzazione vera e propria, in cui vi visualizzate in quella situazione, in cui mettete in scena il teatrino emotivo e mentale di voi in quella situazione, allora lì, quando uscite, se l'emozione ve la portate dietro, allora sì che state dando un bellissimo moto energetico alla legge dell'attrazione, e vedrete che funzionerà nella vostra vita, sono assolutamente certa e ve lo posso ovviamente testimoniare con la mia, se mi conoscete da quando ho aperto il canale sapete, avete visto tutti i passaggi proprio concretamente. E quindi ragazzi, questo video lo chiudiamo qui, aspetto di leggere i vostri commenti, mi raccomando, fateli sempre nel rispetto di tutti, ma io oramai vi conosco e so che siete sempre rispettosi e se avete qualcosa da chiedere, chiedetela qua sotto, mi fa piacere non solo rispondervi io, ma mi fa piacere anche quando leggo qualcuno che vi dà delle risposte, perché così si instaurano dei dialoghi che ci consentono di crescere tutti insieme. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.